Con la riconsegna della cabinovia della Madonnina, del magazzino a valle e delle attrezzature rimanenti, la Gran Sasso Terramano torna in possesso di tutti gli impianti di Pratitivo e Pratoselva. Dopo un lungo tiro e molla, l'ex gestore Marco Finori ha riconsegnato infatti le attrezzature delegati della società Gran Sasso Terramano. Si è riconsegna delle chiavi, sta iniziando un processo che ci vedrà il 31 insieme ai soci per discutere e decidere quello che sarà il cronoprogramma finalizzato a una repertura degli impianti entro la stagione estiva. Stiamo valutando tutte le ipotesi, quella più plausibile, la vendita degli impianti, il nuovo gestore è una soluzione che stiamo scongiurando per il momento. Finori aveva già riconsegnato la quadriposto, il pilone e gli impianti non funzionanti di Pratoselva. Il lotto degli impianti di proprietà della GST è esclusione della cabinovia che è di proprietà della provincia di Terramo, ma in concessione alla GST stessa. Il tutto potrà ora essere venduto per portare a termine la liquidazione della società. Purtroppo gli impianti di Pratitivo e di Pratoselva sono fermi da troppo tempo. Gli stessi impianti di Pratoselva sono fermi da anni e erano nuovi, fatti solo nel 2010. Quindi bisogna ridare la giusta spinta per dare la vocazione che merita tutto il territorio montano. Dunque ora per il futuro dei Pratitivo si aprono nuovi scenari su cui il Presidente della provincia è già al lavoro, mentre le cause ancora pendenti con reciproche e richiesti di risarcimento danni andranno avanti fino ad una definizione che potrebbe essere influente. L'obiettivo è sicuramente la salvezza degli impianti e quindi tutelare la montagna, tutelare gli interessi della montagna, tutelare gli operatori della montagna e ridare alla provincia di Terramo il giusto lustro affinché possa promuovere le sue tipicità, le sue bellezze naturalistiche.